Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come L'ex Jeffino Alex Belli sorprende i follower con uno scatto rubato, ecco come si comporta davvero lontano dai riflettori L'ultima edizione del GF Vip ha sfornato una schiera di vip freschi e pronti a ripopolare i salotti del piccolo schermo Uno dei protagonisti più iconici e chiacchierati del format porta certamente il volto dell'attore e musicista Alex Belli Istrionico, carismatico e coinvolgente, l'attore di Cento Vetrine ha contribuito alla creazione di molteplici dinamiche nella casa di Cinecittà, cedendo il posto dopo l'eliminazione alla moglie d'Elia Durano La modella venezuelana ha infatti compiuto un ingresso in corsa nello show, approfittando del contesto per chiarire con solei sorge circa il triangolo amoroso sorto col marito sotto le telecamere I coniugi, al termine del reality, si sono dichiarati più uniti e complici che mai, e promuovono tuttora il concetto di amore libero L'esperta di gossip Deyanira Marzano ha ricevuto un'interessante segnalazione che li riguarda, ecco come si comportano lontano dalle telecamere Molto raramente i VIP si rivelano nel privato come appaiono a favore di telecamere, serbano spesso temperamenti fumantini e spocchiosi, i dirado si concedono ai fan, se non nelle occasioni pubbliche Una piccola fan undicenne ha intercettato la celebre coppia, fermandola presumibilmente per un autografo e una foto A malincuore, la mamma della giovane sostiene che il comportamento di Delia e Alex è stato semplicemente adorabile Sebbene la donna non apprezzasse particolarmente i due ex geffini, deve ammettere che con la figlia si sono dimostrati premurosi e disponibili, di seguito il suo racconto In una storia, Deia Nira Marzano ha pubblicato la seguente emissiva, Ciao Deia Alex e Delia Ippodromo a Taranto. Anche a me non hanno mai fatto impazzire i loro modi, ma le mie figlie con il nonno in Puglia li hanno appena incontrati, e sono stati carinissimi e molto disponibili Mia figlia di 13 anni dice che entrambi le facevano tantissimi complimenti per come sono carine, hanno chiesto come stavano e se erano sorelle. Ti mando la foto appena fatta direttamente da Alex dal telefono di mia figlia di 11 anni Punto da ciò che emerge I coniugi belli Duran provano affetto e riconoscenza sinceri nei confronti dei fan, a maggior ragione per quelli più acerbi Delia non ha d'altronde mai fatto mistero di desiderare ardentemente una futura maternità, e soffre nel non aver ancora messo alla luce un bimbo Noi lo auguriamo ad entrambi, dopo tanti rumors, la coppia sembra aver trovato un equilibrio del tutto nuovo Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il 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 video